L'11 dicembre al Teatro Sette, La Fortuna con la F maiuscola. Come va la scelta di una commedia di Edoardo De Filippo? Quando l'ho letta sono rimasto assolutamente estasiato da quest'opera perché comunque è un'opera esilarante, brillante, comica. Quindi ti affascinano queste cose, come ben sai Edoardo dietro a situazioni quasi grottesche, farse, comicità, esce sempre fuori quella retrospettività, i veri valori ti insegna, ti insegna la vita, ti insegna i veri valori. La vera fortuna è quella di avere persone vicine a te che ti vogliono bene e soprattutto il valore della famiglia, l'amore dei propri familiari. In qualità di regista e di attore come hai voluto caratterizzare, se l'hai caratterizzata, questo testo, questa commedia? Sì, diciamo che ho dato un mio piccolo piccolo contributo, per carità, molto modestamente e umilmente. Diciamo che tengo a sottolineare che a me piace, quando prendo in considerazione un'opera, cerco di non snaturalizzare mai un'opera di un grande attore come può essere Edoardo De Filippo. Il mio contributo qual è stato? Prima di tutto di dare la massima coralità a quest'opera. Qui non esiste soltanto Giovanni, che sarebbe l'interprete principale, ma di dare appunto spazio e caratterizzazione il più possibile a tutti i personaggi che fanno parte di quest'opera, dando il giusto spessore in modo tale che possano contribuire nei migliori dei modi a farsi che quest'opera sia un'opera di gradevole e di successo, insomma. Quindi lei ha scelto un cast con un'accuratezza, un bel cast. Chi fa parte della compagnia? Devo dire che è un bel cast nutrito. Siamo 11 persone in scena e oggigiorno fare una commedia con 11 persone in scena non è facile. La scelta dei personaggi non è mai a caso. Deve sapere che quando io comunque leggo un testo mi immagino già più o meno la messa in scena, mi immagino come devono essere gli attori, perché poi devono rispecchiare determinate caratteristiche. E devo dire che sono stato fortunato, fortunatissimo in questo caso, perché il cast che ho scelto sono tutti bravissimi attori che interpretano il loro luolo in modo egregio. So dire dei nomi che assolutamente mi fa piacere. Ecco, c'è il grande protagonista insieme a me, Filippo Malastro, bravissimo. E con lui, ecco, la mia moglie, Lucia Pigliasco, l'avvocato Stefano Lopez, il sinnotaio Beppe Farina, Luca Cardillo, Davide Bellefiore, Francesca Muoio, Rossella Visconti, Stefano Polini e basta, mi sembra che non ne avrebbe dimenticato nessuno. Allora, tutti al Teatro Sette fino al... Fino all'11 dicembre, vi aspetto.